Dalle parole ai fatti, ha esordito così il direttore della chirurgia di Marche Nord, Costantino Zingaretti, durante la conferenza stampa di presentazione del corso che si terrà sabato 9 maggio a Palazzo San Michele. L'incontro, rivolto a medici e all'infermiere della provincia, sarà l'occasione per presentare ufficialmente quello che sia a Fano che a Pesaro si fa da tempo. Verrà illustrata infatti la nascita della Breast Unit, un team multidisciplinare dedicato alla patologia mammaria, è in grado di dare una risposta istituzionale, ha detto Zingaretti, che non sia di mercato. Il bilancio è positivo, proseguito dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati eseguiti circa 600 interventi e puntiamo a chiudere il 2015 con 1500 procedure. Da quattro mesi inoltre il team dei due ospedali è integrato con la chirurgia pesante al San Salvatore e la day surgery al Santa Croce. Sabato ci sarà un incontro, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di far conoscere ai medici di famiglia e alla popolazione che abbiamo unito le forze di Pesaro e Fano, abbiamo unito le casistiche della chirurgia mammaria e abbiamo dato forma concreta a un team multidisciplinare che si chiama appunto Breast Unit, come da normativa europea, come da raccomandazione del 2006 del Parlamento europeo, per cui sul territorio nazionale devono nascere delle strutture multidisciplinari dedicate perché ogni donna con patologia mammaria ha diritto a un'appropriatezza nel trattamento. Quello che promettiamo lo facciamo, ha sottolineato invece il direttore generale Aldo Ricci. Siamo persone serie e i dati parlano chiaro. D'altra parte bisogna risolvere alcuni problemi, come l'assenza di posti letto, di posti a cuzzi sul territorio provinciale, mentre all'interno di Marche Nord è fondamentale incrementare quelli della medicina d'urgenza. Ora sono 14, ma dovranno esserne attivati almeno 20 e per farlo servono altri infermieri. 5 o 6 arriveranno nel corso del 2015, mentre altri 7 o 8 sono già previsti nel piano Assunzioni del 2016. Intanto è necessario fare cultura verso i cittadini. Importante perché in un processo così complesso bisogna lavorare prima sull'organizzazione interna, sui professionisti, cosa che è stata fatta, con ottimi risultati, superando le naturali resistenze che ci sono sempre in un cambiamento. Ma poi bisogna spiegare esattamente ai cittadini cosa si sta facendo. Nell'esempio di oggi, in cui vi abbiamo parlato della senologia e della riorganizzazione di chirurgia, vi abbiamo fatto vedere con i dati quantitativi e qualitativi come da una riorganizzazione c'è un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Ma questo cosa vuol dire per i cittadini? Che devono capire che questa riorganizzazione fa sì che i punti diminuiscono, i punti di offerta. Per essere molto chiari, l'emergenza urgenza per la chirurgia si fa peso, le desergie si fa fanno. Quindi probabilmente con un disagio di spostamento di 10 o 12 chilometri. Ma aumenta la sicurezza perché abbiamo dei pool di professionisti che si dedicano solo a quelle attività, che sono certificati per fare quelle attività e che danno le risposte migliori ai pazienti. Grazie.